La Bocca della Verdad La Bocca della Verdad Dalla Bocca della Verdad Donde si va a desiderare una mentirata e corta la mano E' un classico E' un classico D'Ammeno di Erbun La mano a Cianno la cortare Ma in realtà è l'altro Non mi ricordo come si chiama Ma questa è Santa Maria in Cosmedin E' una iglesia Griego-Orthodoxa E' molto espectacular E' un bellissimo Grazie 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 Grazie